Buonasera, buonasera e devo cercare di parlare piano perché in realtà dato che se è rinfrescato da noi o meglio dove vivo io se è raffrescato e i ventilatori ce li abbiamo che fanno un po' meno casino e quindi è più probabile che mi si senta. Però comunque il film di stasera è il 47esimo classico della Disney del 2007 che è, aspetta, il titolo italiano è I Robinson una famiglia spaziale, titolo originale Meet the Robinsons. Allora, cosa potremmo dire? Da dove potremmo cominciare? Allora, condizioni con il film sono che non l'avevo mai visto prima, non sapevo assolutamente niente avevo visto giusto due o tre cosette nei soliti trailer che c'erano tra videocassette e DVD della Disney ma in realtà non mi ricordavo veramente nulla. Anzi... Sì, scusate, il mal di gola. Allora, e i rutti che quasi partono. Allora, anzi, io so persino talmente poco che inizialmente pensavo che, dato che ho visto che Gli Incredibili è del 2004, pensavo che quasi sicuramente conoscendo la Disney i Robinson dal titolo potesse essere, diciamo, la copia disneyana degli Incredibili. E... boh, niente, avevo questa grande impressione, avevo questa enorme impressione però sono contento di aver visto che durante la prima visione, che in realtà non è così e che semplicemente ero io che mi ero fatto un pregiudizio sbagliato. Sono contento di questa cosa. E... Allora... Ok... No, stavo cercando di ricordarmi una cosa che però non ho appuntato. Allora, io direi che prima di ogni cosa possiamo partire con la trama. E comunque tenetevi pronti, ragazzi, perché ci saranno un paio di sorprese in questa recensione. Ci saranno un paio di sorprese che erano unexpected pure per me. E... Ok, nulla. I miei creditori avevano lasciato degli inserti qui sul tavolo di salotto. Lo sapevate che... Il gatto allo yogurt è un dolce leggero e profumato, una torta cremosa e deliziosa. Lo sapete ormai. Adoro i gattoi dolci e li ho preparati in tante versioni. Me ne mancava uno allo yogurt ed eccolo qui. Il gatto allo yogurt l'ho preparato in 5 minuti con una forchetta e via in cottura. È senza farina, burro, olio, lievito e si scioglie in bocca ed è perfetto per l'estate. Ideale per colazioni e perfetto come spuntino. Potete utilizzare lo yogurt del gusto che più vi piace. Alla frutta. Alla vaniglia. Alla caffè. Quello greco. Scegliete voi. Io ho optato per il classico bianco non zuccherato per renderlo leggero leggero e poi, sopra, prima di mangiarlo, ho messo un po' di miele. Ci sta benissimo. Potete spalmarci sopra anche un po' di marmellata a nutella per una versione più golosa. Inoltre, potete aggiungere un ripieno di gocce di cioccolato fondente. Insomma, personalizzatelo come preferite. Faccina sorridente. Difficoltà molto facile. Costo economico. Tempo di preparazione 5 minuti. Tempo di cottura 45 minuti. Porzioni stampo da 20 centimetri. Metodo di cottura forno. Cucina italiana. Ingredienti. Che grande recensione Robinson. Vi spiego cose del gâteau. È incredibile. Insomma, io direi che possiamo partire con la trama. Allora, di che cosa vale Robinson? A parte che... Qualche mio parente, coglione, ha lasciato aperto il balattro dello zucchero... Sì, dello zucchero. Del sale grosso. E mi deve incazzare. Perché mi deve incazzare per ogni cosa e palle? Sto spostando roba perché così sono pronto dopo. Insomma, che dire. Allora, la trama vede questo ragazzo protagonista di nome Lewis. Che, probabilmente, è un bambino orfano. Che vive dentro questo orfanotrofe. Però è tipo un piccolo genio. E si diverte a creare cose di qua e di là. Però c'è il problema che, per quanto sia intelligente e big brain, nessuno lo vuole. Infatti... Infatti, sì, sapete com'è. Quando una persona intelligente è temuta dagli altri e quindi... In realtà non è vero. Sappiamo che il primo colloquio che vediamo nel film con i genitori è che semplicemente lui per poco non fa avere... Cioè, in realtà fa avere una reazione allergica a uno dei due con del burro d'arachidi. Non vi serve sapere come. E quindi i genitori sono tipo, andiamo via prima che ci ammazzi definitivamente. Però, insomma, fatto sta che nessuno vuole questo povero Will. Non si chiama Wilbur. Wilbur è un altro personaggio. Non vuole questo... Nessuno vuole Lewis. E... Insomma, succede che... Comunque trattate a mente che Lewis è anche compagno di stanza con un altro figliolino che in italiano è stato chiamato... Aiuto. Aiuto. Grufolo. In italiano è stato chiamato Grufolo. In realtà ha un nome, ma Grufolo è il soprannome. Insomma, è questo bambino più sfigato perché è consente a stare in camera con lui e lui tutte le volte si mette a inventare roba. Letteralmente non dorme la notte perché c'è l'amico che fa casino. Insomma. E praticamente... Cosa succede? Una certa, mentre parla con la direttrice dell'orfanotrofio, che mi sembra si chiamasse Mildred. Mi sembra si chiamasse Mildred. E a me a sentire il nome di Mildred mi viene in mente soltanto l'enigma dell'orologio di Silent Hill 2 con le tre lancette Henry, Mildred e Scott. Che bello che per tutte le mie partite, fino a che non ho letto, ho risolto l'enigma dando a caso ma senza sapere il ragionamento. Insomma, discute con Mildred anche sul fatto che lui a una certa si chiede perché sua madre l'abbia abbandonato. Insomma, c'è il discorso di Mildred e le dice No, ma sono sicura che non ti ha abbandonato perché ti odiasse, magari ti voleva bene ma non poteva tenerti, eccetera eccetera. A quel punto, Lewis pensa di fare la genialata, pensa di inventare una macchina che legga ricordi. Perché così lui spera con quella macchina di poter vedere, almeno tramite ricordi, chi fosse la madre. Insomma, fate conto che per quasi tutto il film ci sarà questa tematica di lui che vuole sapere chi è la madre, eccetera eccetera. Insomma, quindi lui, facendo cose di qua e di là, crea questa macchina, leggi ricordi, e la porta a una di quelle fiere scientifiche, quelle che nella cultura americana fanno sempre dentro le scuole. E ricordate gente, è legge universale che quando fanno le science fair, le fiere della scienza in America, è una legge non scritta, c'è sempre il ragazzo che fa il modellino del vulcano, sempre, 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 sempre. Insomma, e soltanto che a questa fiera, Lewis incontra questo ragazzo di nome Wilbur, che... Ho detto bene il nome, giusto? Wilbur, ok. Questo ragazzo di nome Wilbur, che lo stalkerà un attimino e poi lo prende un attimo da parte, dicendogli che lui viene dal futuro e che... Gli chiede se ha visto un uomo con la bombetta che lo stesse seguendo. Però Lewis gli dice, no, mi spiace, non ha visto nessuno, sei un tizio strano, per favore, stammi lontano. Insomma, e intanto Lewis fa tutto tranquillo mentre Wilbur controlla il giro per vedere questo eventuale uomo con la bombetta. E succede che in realtà quest'uomo con la bombetta arriva, ma la sua bombetta stessa è tipo una specie di robottino che si nasconde sotto l'invenzione di Lewis e probabilmente smette lì a sabotarla per un attimo. Così quando Lewis deve mostrare effettivamente questa macchina, leggi ricordi, succede un macello e insomma, fin fine, prende fuoco roba, cose anti-incendio che spruzzano l'acqua e lui si sente un fallimento perché ancora una volta ha creato qualcosa che non funziona. Cioè nel senso, Lewis è un ragazzo che si diverte a inventare le cose, è un piccolo genio, però molto spesso le sue invenzioni non funzionano fino in fondo. Insomma, succede anche per questa macchina, leggi ricordi. E dopo che succede tutto questo macello, la bombetta, che è questo tipo robottino, gliela ripara eccetera eccetera. Insomma, però tutto di nascosto. È come dire, gliela smontata sul momento perché sul momento a lui, all'uomo con la bombetta, serviva che Wilbur, che Lewis si sentisse uno sfigato, non sa fare un cazzo. E a quel punto, mentre Lewis se ne va via, l'uomo con la bombetta gli ruba la macchina. E quest'uomo che gli ruba la macchina, la va a cercare di proporre a un ufficio brevetti come se l'invenzione fosse sua, soltanto che è stupido, non sa fare un cazzo, addirittura ha il cappello stesso con uno schermo a suggeriglie che cosa dire, però si fa cacciare fuori e non funziona. Quindi non riesce a far passare l'invenzione per sua, non riesce nemmeno a farsela provare. Anche perché non sa nemmeno come accenderla. Al tempo stesso, Wilbur segue Lewis fino all'orfanotrofio e si scopre che Wilbur viene veramente dal futuro. Infatti, Lewis si ritrova nella sua astronave invisibile, che da certa parte parte a velocità megafotonica, e si ritrova nel cazzo di futuro. Si ritrova nel futuro, quindi immaginate tutti i palazzi futuristici, eccetera, eccetera. Onestamente il design non è brutto, non è brutto il design, però mi sembra troppo da... Non mi viene da dire casette della Barbie però come se fossero futuristiche, però insomma l'atmosfera era un po' fin troppo colorata per i miei gusti. Però comunque, vabbè, quello lì è il punto minore, quello è il punto minore. Per un attimo pensavo di aver visto aprirsi la porta del salotto, la porta del corridoio mi sono caccato in mano perché pensavo andasse a finire come l'altra volta di mia madre viene a dirmi di fare silenzio. Insomma, anche perché sono le due di notte. Insomma, in poche parole, Lewis viene portato nel futuro. E per quale ragione veniva portato nel futuro? Uno, perché Wilbur doveva dimostrargli davvero di venire dal futuro. Due, perché c'era qualche casino. Aiuto. Sì, perché Wilbur doveva convincere Lewis a tornare alla fiera e aggiustare la macchina Leggi Ricordi. Soltanto che lui al momento, dato che hanno fatto un atterraggio di fortuna, la sua astronave, che è una macchina del tempo, viene danneggiata e quindi Lewis è l'unico in grado di poterla riparare. Anche se lui non ne ha le conoscenze, Wilbur gli dice te sei l'unico che è in grado di farlo. La mia famiglia non lo può sapere, i miei genitori non sanno che l'ho presa, se mi scoprono vengo maciullato vivo. Insomma. Insomma, quindi si chiudono nel garage, tutte queste robe lì e c'è la classe scena del si do non farti vedere da nessuno, ma tassativamente il protagonista si fa sgamare subito, perché non è che lo fa di proposito, ma viene erroneamente risucchiato da un tubo e viene portato all'esterno della casa, proprio nel giardino principale. E a quel punto lui, mentre cerca di tornare nel garage, finisce praticamente per incontrare tutta la famiglia, tranne il grande capo che sarebbe il padre di Wilbur. Il padre di Wilbur è l'unico personaggio che non incontriamo, almeno per adesso. È un personaggio che vedremo più avanti, ma ci arriveremo. Insomma, praticamente incontra tutta la famiglia, personaggi incredibili e cose pazze. Vorrei già dire un attimo un paio di cose su alcuni personaggi, ma credo che sia più opportuno aspettare quando parleremo di adattamento. Ve l'ho detto, ci saranno delle sorprese. Insomma, e praticamente incontra tutta la famiglia, sono uno più strampalato dell'altro. Tanto che, mentre guardavo, ero lì che mi dicevo che cazzo sto guardando, ma che cazzo di film ho preso? Però insomma, sì, sono uno più di fuori dell'altro, fra una che ha i modellini di treni, ma in scala uno a uno e ci fa legare con un altro che si lancia da solo con un cannone, fra uno che ha tipo dei razzi che lo fanno volare e si diverte a sparare vernice a giro e così via. Insomma, sono uno più pazzo dell'altro, però è esilarante. Insomma, praticamente succede che alla fine Lewis rincontra Wilbur mentre fanno casino e Wilbur è tipo, ok, ho bisogno di sapere come è andata la situazione, quali membri della mia famiglia hai conosciuto e cosa è capito a loro. E liberamente Lewis, che è supergenio, gli spiega ovviamente tutto l'albero genealogico e la parentela di tutti i parenti della famiglia. Insomma, e tra l'altro è bello perché al quadro del padre, che si chiama Cornelio, se mi sentirete chiamarlo Cornelius, non mi sto sbagliando, è comunque il nome inglese, quindi se sentirei dire Cornelius invece Cornelio, è uguale. Solo che al quadro di Cornelio, dato che non l'abbiamo incontrato, c'è semplicemente una sagoma nera senza nessuno sopra. A una certa, fanno un nome e poi appare tipo ovviamente il volto dell'attore doppiatore americano. Anche su questo c'è una chicca, ma ci arriveremo più avanti. Ragazzi, questa recensione dovete arrivare fino in fondo, perché credetemi c'è un sacco di sorprese. Insomma, soprattutto in chiave di doppiaggio, in chiave di doppiaggio c'è un sacco di sorprese. Insomma, praticamente è salta fuori che ha conosciuto l'intera famiglia. E quindi, dato che si rivedono costretti e devono guadagnare tempo, Wilbur finisce per portare Lewis a cena. E quindi lo spaccia per un compagno di classe, eccetera, eccetera. Succede un paio di macelli alla cena, e così via, però insomma, Lewis inizia a stargli simpatica alla famiglia di Wilbur, che sono per l'appunto i Robinson. E la famiglia di Wilbur sono i Robinson. Bene, in questo momento, in tutto questo casino, in tutto il suo tram tram, il nostro cattivo, che al momento lo conosciamo come l'uomo con la bombetta, lui invece possiede la seconda macchina del tempo, perché Wilbur ci spiega che esistono due sole macchine del tempo inventate da suo padre, che una è quella che hanno distrutto con l'atterraggio d'emergenza e che stanno riparando, mentre l'altra è stata rubata dall'uomo con la bombetta. Insomma, e probabilmente questo uomo con la bombetta ha l'idea geniale di... Aspetta, prima va nel futuro, perché sa che Wilbur e Lewis sono andati nel futuro. e a quel punto la sua bombetta, che ricordiamo essere tipo questo robottino che vola, che praticamente ha una volontà sua, si intrufola dentro la casa e gli dice no, coglione, te resti qui e non fai un cazzo. E a quel punto, dopo un pochettino, lui si annoia, non sa che cosa fare, e quindi pensa alla grande furbata di viaggiamo nel passato, portiamo un tirannosauro nel futuro e facciamogli cacciare Lewis. Ricordiamo che l'uomo con la bombetta vuole Lewis, non gliene frega un cazzo di tutti gli altri. E scopriremo poi perché. Insomma, ovviamente, mentre loro sono a cena, arriva questo fottuto tirannosauro enorme e parte una scena fotonica figa di combattimento fra tutti i membri della famiglia, questo tirannosauro che viene bullizzato malissimo. Perché questo tirannosauro è tipo controllato da quest'altra mini bombetta che gli viene messa sulla testa. Insomma, long story short, il tirannosauro non viene ammazzato, ma gli viene tolta la bombetta e quindi riprende volontà sua e incredibilmente non vuole più mangiare nessuno. È un tirannosauro che non vuole più mangiare nessuno ed è bello vedere come non viene nemmeno riportato nel passato. Cioè, rimane lì e diventa quasi l'animale di accompagnia, ma va bene. Tra l'altro hanno già un cane che però ha gli occhiali perché l'assicurazione non gli prescrive le lenti a contatto o qualcosa di simile. E quando lo dicono si sente proprio il... Insomma, è una piccola battuta che però in inglese ha più senso. In italiano è stata adattata in maniera strana ma in inglese ha più senso. Devo bere, devo bere. Però non mi va ad aprire l'armadietto delle spezie e quindi berrò dalla bottiglina. Insomma, praticamente succedono tutti questi asini, succedono tutti questi asini, però Wilbur praticamente deve tenere Lewis nascosta alla famiglia fin dall'inizio perché loro non possono sapere che Lewis viene dal presente. Definiamo il presente come l'era temporale normale di Lewis, il futuro come l'epoca in cui Lewis viene portato da Wilbur e il passato che è prima dell'orfanotrofio. Insomma, non possono sapere che Lewis viene dal presente. La motivazione non c'è data a saperla. Io pensavo tipo che, ne so, magari se lo vengono a scoprire si crea qualche loop temporale, è incasinato, succedono cose strane. Insomma, tutti quei casini che accadono quando si viaggia nel tempo. Dato Yontino, io lo dico che secondo me questo film se ti metti ad analizzare un pochino ci sono cose con i viaggi nel tempo che non tornano. Secondo me se ti metti ad analizzarlo ci sono casini con i viaggi nel tempo che veramente non tornano e si creerbbero dei loop temporali pazzi. E insomma, adesso devo ufficialmente abbassare la voce perché mi hanno aperto la porta e mi hanno fatto gesto di abbassare la voce. Questa volta non posso annullare perché sono passati 20 minuti. Insomma, aiuto, aiuto. Porca puttana, appena succedeva qualcosa finisco deconcentrato, è la fine. Allora, aspetta, fai mente locale, fai mente locale, fai mente locale. Ok, praticamente la famiglia scopre che Lewis viene dal presente e quindi anche se hanno fatto tutto il discorso del ti vorremmo come membro della famiglia improvvisamente diventa no, non possiamo prenderti, non ti possiamo accettare vorremmo tantissimo ma non possiamo. La motivazione non ci è data a saperla. E insomma, in questo momento Lewis si sente tradito a tutti quanti e si sente tradito addirittura da Wilbur che gli aveva promesso che se avessero aggiustato la macchina del tempo oltre a velo riportato nel presente gli avrebbe anche fatto conoscere la madre. Però Wilbur dice in maniera esplicita no, no, l'avrei fatto davvero però poi si copre la bocca perché tipo oh cazzo non lo dovevo dire. E quindi Lewis si sente tradito come la merda stavo per dire traduto si sente tradito meno mai e tipo scappa via disperato fra sé. E a questo punto a questo punto Lewis incontra di nuovo l'uomo con la bombetta. Ok, questa volta se lo incontri davvero per la prima volta. Insomma, l'uomo con la bombetta gli fa il tinto fatto del se mi aiuti io ti posso veramente riportare da tua madre perché così la puoi conoscere. Soltanto che, insomma Lewis accetta di andare con lui si ritrova nel suo covo del suo covo segreto e gli insegna come funziona la macchina legge i ricordi eccetera eccetera come lo sto spiegando io è una merda ma come viene detto nel film abbastanza coerente. Insomma, gli spiega come funziona la macchina legge i ricordi e a quel punto l'uomo con la bombetta gli fa il cecio gli fa il cecio lo intrappola e gli dice tipo ma che cazzo stai facendo perché io cosa ti ho fatto eccetera eccetera e qui arriva il plot twist si scopre anzi arrivano i plot twist si scopre numero uno che ah sì comunque l'uomo la bombetta era tornato nel presente aveva incontrato il compagno a distanza di Lewis questo era un piccolo dettaglio importante si scopre che uno Lewis in realtà è il futuro padre di Wilbur e di conseguenza Lewis è il futuro signor Robinson Cornelius probabilmente Lewis sarà Cornelius nel futuro e che quindi lui nel futuro è diventato un mega inventore che ha fatto mega successo e l'uomo con la bombetta è incazzato nero con lui e lo vuole rapire per vendetta per proprio dire ah adesso ho vinto io sono io il migliore ma non è tutto perché a questo punto ci staremo dicendo allora per cercare così tanta vendetta chi sarà mai l'uomo con la bombetta l'uomo con la bombetta si scopre essere grufolo l'uomo con la bombetta è grufolo cresciuto perché quella sera che Lewis è stato alzato tutte le notti per creare la macchina leggi ricordi che letteramente non ha fatto mai dormire grufolo non è stato attento durante una partita di baseball e all'ultimo colpo ha fatto perdere la partita è stato picchiato eccetera eccetera e da quel giorno grufolo ha asserbato rancore e odio nei confronti di Lewis dando sempre la colpa a lui del suo insuccesso e del suo essere odiato da tutti anche se in realtà un pochettino è stato lui coglione però abbiamo capito abbiamo capito il concetto insomma è proprio a livello di vendetta personale e quindi a quel punto l'uomo con la bombetta ritorna nel presente e riesce a vendere l'idea e a far passare la macchina leggi ricordi come è sua a questo punto Lewis è riuscito a ritornare a casa Robinson e sta discutendo con Wilbur di tutto e Wilbur è il momento del ti prego devi fare qualcosa non puoi più stare le mani in mano devi agire devi fare qualcosa e infatti dato che l'uomo con la bombetta cioè scusami a questo punto possiamo dirlo grufolo grufolo cattivo definiamoci a lui sempre come l'uomo con la bombetta perché come dice lui stesso nel film grufolo non è un nome adatto a un cattivo insomma l'uomo con la bombetta nel presente riesce a vendere l'idea e a quel punto il futuro cambia infatti Lewis vede il futuro stesso che si trova lui che sta mutando in una cosa estremamente tetra e dimoporte incredibile e dato che cambiano eventi nella linea temporale Wilbur letteralmente gli si dissolve davanti di stile Infinity War Thanos che schiocca le dita insomma e quindi Lewis rientra in casa Robinson e su questa macchina legge ricordi vede come sono andati gli eventi dal presente al futuro e probabilmente si scopre che ha venduto l'idea cioè scusami l'uomo con la bombetta ha venduto l'idea e al tempo stesso ha deciso di produrre in serie i cappelli che lui ha in testa solo che a una scelta questi cappelli robottini prendono il controllo di tutti e letteralmente diventa l'anarchia totale questi cappelli governano tutto stile cappello secchio di Plankton nel film di SpongeBob del Chambucket vi ricordate quello dovrei rivedere anch'io perché sono passati millenni del film di SpongeBob che Plankton metteva come gadget i cappelli del Chambucket che erano questi secchi ma poi lui premiava i pulsanti e questi secchi diventavano dispositivi di controllo mentale ecco è la stessa identica cosa ma con delle bombette insomma in poche parole si scopre che a noi in realtà è vero si era scoperto anche prima quando si era scoperto che l'uomo o la bombetta era grufolo il terzo plot twist è che la bombetta che ha vita propria che si chiama aspetta l'ho scritto Doris Doris era un'invenzione creata da Lewis dal Lewis del futuro che però gli si è ritorta contro perché aveva iniziato a sviluppare un'intelligenza artificiale propria e che quindi Doris probabilmente ha preso il controllo per comandare su tutti e addirittura ha sfruttato l'uomo con la bombetta per i suoi scopi in realtà l'uomo con la bombetta era soltanto una pedina nelle mani di Doris infatti si vede nel come possiamo dirlo nella macchina dei ricordi si vede l'uomo con la bombetta che assista tutti i casi dice io non volevo tutto questo insomma in poche parole il futuro è cambiato tutti quanti sono posseduti da quest'affare qui pure la futura famiglia Robinson soltanto che Lewis riesce a scappare riesce a salire sulla macchina del tempo e a tornare indietro nel tempo nel presente per impedire che l'uomo con la bombetta firmi il contratto per dirgli che non sai che cosa stai facendo stai per fare un macello e nel presente Doris che è la bombetta gli si incazza gli si punta addosso le lame rotanti ma Lewis a cazzo duro la polverizza nel vero senso della parola la polverizza stile Thanos di Infinity War semplicemente dicendole io non ho intenzione di crearti e a quel punto lei si dissolve disperatamente e la bombetta muore a quel punto lui prende Gruffolo Gruffolo adulto ci riferiamo a lui come l'uomo con la bombetta prende l'uomo con la bombetta lo fa salire sulla sua astronave macchina del tempo e lo riporta nel futuro per fargli vedere guarda questo sarebbe il casino che avresti fatto venire fuori e anche l'uomo con la bombetta è lì che dice cazzo io non avrei voluto tutto questo eccetera eccetera insomma un cattivo che però era semplicemente accecato dall'odio e non sapeva che quello avrebbe fatto avrebbe portato a conseguenze peggiori insomma praticamente l'uomo con la bombetta nel futuro si vede che se ne va via e non sapremo bene che fine fa però comunque intuiamo che non darà più problemi non muore non sappiamo che fine faccia ma capiamo che non darà più problemi e a quel punto cosa succede aspetta a quel punto Lewis si rivede con la famiglia che ormai sono tutti salvi e addirittura incontra Cornelio incontra Cornelio che è il se stesso del futuro e io credo che qua si potrebbe creare qualche problema spazio temporale ma passiamoci sopra al momento insomma incontra Cornelius e insomma si scopre c'è il dialogo me stesso del futuro con me stesso del passato insomma cose ok e alla fine Wilbur Wilbur lo riporta nel presente ma in realtà prima di portarlo nel presente lo riporta alla sera in cui è stato abbandonato dalla madre davanti all'orfanotrofio perché sapeva che lui ci tiendeva tanto insomma Lewis scende dall'astronave da dietro vede la madre che lo sta abbandonando e sale sulle scale anche lui è quasi tentato di toccarla per vedere chi sia ma alla fine ci rinuncia torna indietro aspetta che lei vada via e poi è lui a bussare alla porta dell'orfanotrofio insomma ovviamente quando Mildred che è la capa apre la porta non c'è nessuno come in ogni abbandono che ci sia c'è soltanto il bambino a terra che piange e così via insomma e io posso capire che ok aspetta prima ci arriviamo dopo insomma ovviamente lui capisce che insomma tutta la morale del film non si può focalizzarsi sul passato bisogna andare avanti bisogna guardare al futuro e non al passato quella è la morale del film lui Lewis capisce la morale del film viene riportato nel presente gli viene data una seconda possibilità per mostrare a macchina leggi ricordi questa volta la macchina funziona e si scopre che alcune persone che erano alla fiera sarebbero stati futuri membri della famiglia Robinson e insomma lì tutti felici e contenti lui viene adottato da due delle persone che stavano lì tutti felici e contenti e lui nel futuro diventerà Cornelio insomma niente è un grande il cerchio è completo tutto quanto va bene ora tornando sul discorso decido di non sapere chi sia mia madre ora io posso io capisco pienamente che la morale del film oh mio dio siamo già a mezz'ora io posso capire completamente che la morale del film è bisogna guardare al futuro e non al passato io la posso capire ma porca puttana ci hai martellato i coglioni per un'ora e venti su chi cazzo è la madre di Lewis ci hai martellato i coglioni per un'ora e venti con questa cosa e alla fine non ce lo fai sapere cioè va bene io ieri l'altro ho visto memoria di un assassino che era questo film di Bong Joon-woo se non mi sbaglio sudcoreano che si basa sulla vicenda di un serial killer sudcoreano negli anni 70-80 mi sembra anni 80 che era sudcoreano e che non venne mai trovato in realtà hanno scoperto chi fosse nel 2019 ma non avevano comunque abbastanza prove per confermare che fosse lui però era il sospetto più candidato diceva di aver commesso tre dei tanti omicidi e insomma andato in prescrizione praticamente insomma e anche in memoria di un assassino il film finisce che spoiler il film finisce che non saprai mai chi è l'assassino perché per l'appunto fino al 2019 non l'hanno scoperto insomma è come vedere è come vedere il film di Zodiac cioè è come vedere il film di Zodiac c'è la vicenda dei serial killer che non sai chi sia il film dura due ore e dieci e quando arrivi alla fine non sai chi è l'assassino quando arrivi alla fine non lo scopri è un po' una rattura di cazzo però insomma ho visto questa cosa tirata in maniere peggiori va bene io direi beviamo di nuovo ma questa volta ci droghiamo con l'armadietto delle spezie ah che bello che bello ah che bello paprika dolce questa sera la spezia di stasera è paprika dolce della Conad allora ci sono altre cose della trama da dire no no allora ci sarebbe delle cose da dire sull'aspetto visivo e mi sa che nell'aspetto visivo comprenderò un paio di citazioni però comunque sia ah comunque mi ha scordato di dire che le vicende del film sono ispirate a questo romanzo per ragazzi che si chiama A Day with Wilbur Robinson praticamente un giorno con Wilbur Robinson non so se questo romanzo sia arrivato in Italia o cosa però va bene e insomma praticamente aspetto visivo questo film è il secondo film della Disney che è completamente in CGI quasi non mi stavo ricordando quale fosse il precedente ma il precedente era Chicken Little non capisco se è entrata una zanzara o una palena in casa ma va bene insomma niente il film è completamente in CGI e non è brutto cioè devo dire visivamente non è brutto però ho apprezzato molto di più Chicken Little perché Chicken Little si capisce molto di più che cioè la CGI è stata usata meglio perché è molto più cartonesco animalesco cioè per come la vedo io salvo rari casi non puoi usare la CGI in un film dove i soggetti sono umani a meno che tu non voglia farlo in una maniera particolare secondo me la computer grafica piena cioè meglio quando un film è completamente in CGI ora quando la CGI è di supporto la puoi usare per quello che vuoi finché non è invasiva cioè per dire come lo dico come lo dico come lo dico se la CGI la usi come è stata usata nel pianeta del tesoro è perfetto perché in molte scene faresti fatica a riconoscerla se la CGI la usi come è stata usata in Tarzan è perfetto perché una persona normale non si accorgerebbe mai che in Tarzan c'è della CGI infatti quando la CGI viene usata il supporto per me è perfetto io parlo della CGI in questo momento quando la CGI viene usata al 100% nel film quando il film intero è tutto in CGI secondo me quando un film è completamente in CGI devi puntare su uno stile molto particolare per fare in modo che secondo me possa funzionare ora per i film di stasera non era brutta anzi era fatta molto molto bene però mi ha dato l'impressione che ci fosse qualcosa che non andasse e secondo me preferisco molto di più Chicken Little per adesso però niente per il resto abbastanza carino abbastanza carino non era malaccio e mi è piaciuto molto il design del futuro però quella poca litio dove era tutto mezzo industriale era tutto ultra industriale e mi piaceva un fottio mi ha ricordato un sacco le scene post apocalittiche di 9 e 9 credo che fosse un film per ironia uscito nel 2009 era uscito il aspetta aspetta il 9 settembre del 2009 letteralmente 9909 le coincidenze con questo film e tra l'altro ragazzi mi è venuta una voglia matta di rivederlo perché effettivamente è veramente un bel film era quello di Tim Burton tutti i stop motion con i pupazzetti era incredibile e niente era questo film di questi pupazzetti che erano 9 in totale che vivevano in questo mondo post apocalittico ed erano le uniche forme di vita viventi rimaste e infatti anche il design della torre sì della torretta della bombetta ma quando diventa cattiva mi ha ricordato molto la macchina di 9 perché l'occhio rosso gigantesco e anche la forma mi ha ricordato un fottio questa bestia meccanica che era composta da tutte le macerie di altri macchinari ed era veramente questa mega macchina che si assemblava da sola per diventare sempre più forte e mortale e il suo unico scopo era distruggere qualsiasi forma di vita ci fosse no ragazzi io ve lo dico se non lo avete guardato cercatevi il film 9 di Tim Burton perché è veramente veramente bello è una piccola gemma insomma niente questa recensione sarà molto molto interessante da risentire c'è tra l'altro uno dei personaggi che è aspetta uno dei personaggi che è Carl che è questo robot appena l'ho visto mi son detto porca puttana è Ben del pianeta del tesoro è letteralmente quasi lo stesso identico robot è lo stesso robot con un paio di modifiche estetiche ma per comportamento è quasi uguale e addirittura penso che almeno il doppiatore italiano potrebbe essere effettivamente lo stesso purtroppo non ho controllato ma a voce direi che il doppiatore potrebbe essere a tutti gli effetti lo stesso e secondo me questa cosa non è casuale secondo me non è casuale perché è capitato molto spesso che Disney America quando fa quando fa un adattamento di un film in altre lingue sa già che doppiatori prendere per altre lingue insomma non dimentichiamo che per Mulan sapevano già chi prendere per il doppiaggio tedesco quando ancora non avevano il cast completo insomma e tra l'altro piccolo dettaglio carino che ho notato di Robinson alla seconda visione è che verso l'inizio del film quando siamo nel presente che Lewis è stato rifiutato e il suo posto tranquillo è il tetto dell'orfanotrofio che è più o meno diciamo il suo posto speciale e si vede infatti nello sfondo questo cartellone di brain scanners che è per me tipo questo cartellone di un film con questi alieni che leggono nella mente delle persone incredibili e l'ho visto come un foreshadowing veramente interessante perché la navicella ricorda un fottio la forma della bombetta e il fatto che controlli il cervello della gente è un bel rimando al fatto che successivamente questa bombetta avrebbe controllato tutti e wow questa cosa è veramente veramente carina interessante poi non so se brain scanners sia un film esistente perché esiste un film che si chiama scanners però non mi non credo che esista brain scanners però insomma c'è un altro dettaglio dovrei dire oppure ora si parla solo del doppiaggio no a parte il fatto ok ora parliamo solo del doppiaggio e a parte ragazzi che ho visto nel doppiaggio che Ethan Sandler che è uno dei doppiatori americani ha doppiato ben sei personaggi all'interno di tutto il film porca puttana cioè probabilmente Adam Sandler ha doppiato Doris Spike che non mi ricordo chi sia Dimitri che non mi ricordo bene chi sia Laszlo Fritz e Petunia che dovrebbero essere probabilmente quasi tutti i membri della famiglia e poi si passa al doppiaggio italiano e ragazzi qui ci divertiamo speravo di far speravo di far scrocchiare tutte le dita della mano assieme però nulla insomma ragazzi doppiaggio italiano ci divertiamo ci divertiamo ora vi dico due piccole chicche e poi vi sparo quella più grossa che purtroppo io non ho potuto apprezzare perché il file che ho scaricato probabilmente non era a tutti gli effetti la versione italiana e ora vi spiegherò perché allora probabilmente ho scoperto che Laszlo che è questo parente della famiglia che avevo già descritto che era questo lì che volava e che sparava vernice da tutte le parti Laszlo è doppiato da Luigi Ferraro porca puttana come ho fatto a perdermela questa come cazzo ho fatto a perdermela forse per il fatto che Laszlo abbia letteralmente due frasi in tutto il film forse deve essere per quello perché parla letteralmente due volte nel film e una di quelle addirittura parla in contemporanea ad un altro personaggio e quindi che sia stato per quello per il fatto che è molto facile da ammissare non devo averlo riconosciuto e mi dispiace un botto perché mi sono sentito veramente un coglione a pensare cazzo c'era Luigi Ferraro nel film e non l'ho riconosciuto mi sento una vergogna ma poi ragazzi ora arriva la sorpresa numero due perché Luigi Ferraro alla fin fine è un doppiatore noto nel cinema d'animazione italiano quando in Italia bisogna far doppiare un personaggio particolare che deve avere un aspetto da tonto giocoso giocherelloneo stile cosmo di fantagenitori in genere viene sempre scelto Luigi Ferraro perché ha una voce adatta al personaggio e si sente Luigi Ferraro è una di quelle voci che riconoscerei fra mille ora in questo caso no perché mi ha preso la sprovvista aveva letteralmente un dialogo in tutto il film se ci avesse avuto altri tre o quattro dialoghi forse l'avrei potuto scovare diciamo stavo per dire spottare poi mi sono detto no non posso dire spottare allora diciamo sgamare però sgamare è brutto scovare incredibile ma ragazzi arriva la sorpresa incredibile uno dei membri della famiglia che è lo zio alt lo zio art che è tipo questo lì che d'aspetto somiglia molto a un supereroe che in realtà nel film fa i pizzaiolo però si presenta figo come supereroe ma si scopre fa i pizzaiolo in italiano ho letto su wikipedia che è stato doppiato da carlo conti e aspettate io a questo punto mi sono detto non è possibile che non abbia riconosciuto nemmeno carlo conti fammi rivedere il pezzo di film in italiano porca puttana ragazzi se è veramente lui è fottutamente irriconoscibile vi giuro ragazzi anche sforzandomi se non l'avessi letto su wikipedia e sempre ammesso in wikipedia sia corretto perché ogni tanto due o tre cazzate scritte ci sono vi giuro che carlo conti all'interno del film è dannatamente irriconoscibile vi giuro non ci sarei arrivato nemmeno a sentirlo in loop per 50 anni che fosse lui porca puttana se veramente era carlo conti ha fatto un lavoro veramente incredibile mi devo congratulare con lui se lo trovo a giro perché tra l'altro so che è di firenze carlo conti quindi cioè mia madre che è contabile mi ha detto che una volta entrò in negozio una volta lei si ritrovò carlo conti in negozio e mi son detto porca puttana avrei voluto essere lì insomma che cosa figa che cosa figa insomma e cosa te lo devo dire cosa te lo devo dire ah giusto giusto che ora arriva la parte più bella e porca puttana ragazzi non ho riconosciuto nemmeno lui mi sto disperando perché non ho riconosciuto nemmeno lui questo è il terzo ed è il più figo di tutti vado subito diritto al suono il terzo il terzo attore doppiatore che non ho riconosciuto è Giovanni Mucciaccia si è veramente lui quello di Art Attack e chi è nel film che è doppiato da Giovanni Mucciaccia Cornelio Cornelio nel film è doppiato da Giovanni Mucciaccia ma aspettate voi direte questa è la più grande sorpresa no non è per niente la più grande sorpresa e aspettate che la sorpresa nella sorpresa riguarda proprio Giovanni Mucciaccia perché praticamente succede che quando Lewis praticamente spiega tutto il quadro genealogico a Wilbur perché così lui capisce cosa ha capito lui e si vede veramente sotto l'elenco ok lui è imparentato con quello lui è fratello di lei loro due sono sposati e lui è loro nipose ok insomma quando arrivano a Cornelio che è infatti questo quadro con la sagoma vuota praticamente in inglese dicono che dato che Lewis non sa non conosce l'aspetto di Cornelio chiede a Wilbur che aspetto a Cornelio Wilbur ci ha messo un attimino in inglese gli dice che assomiglia a aspetta cosa ho scritto oddio che cosa ho scritto ok no non ho scritto il nome dell'attore doppiatore no insomma in inglese gli dice che gli dice assomiglia a nome del doppiatore inglese e nel quadro viene messa la foto del doppiatore inglese io ho letto da wikipedia che nella versione italiana dice che assomiglia Giovanni Mucciaccia e quello in doppiaggio lo dice nel doppiaggio dice assomiglia Giovanni Mucciaccia e nella versione italiana ho letto su wikipedia che viene messa una foto di Giovanni Mucciaccia nel quadro e questa cosa davvero io me la sono persa a un fottio ma non perché non riconoscessi Giovanni Mucciaccia perché nella versione che ho scaricato io si vede comunque il volto del doppiatore vero e cazzo questa cosa mi dispiace a un fottio avessi visto veramente la foto di Giovanni Mucciaccia in un film della disney non so che reazione avrei potuto avere che poi tra l'altro comunque è una mossa molto buona trovare Giovanni Mucciaccia per un film perché sono abbastanza sicuro che un ragazzo nel 2007 fosse pienamente consapevole di chi Giovanni Mucciaccia fosse adesso non credo non sono sicuro che i bambini di adesso sappiano chi sia Giovanni Mucciaccia però insomma anche se lui ha un account in instagram insomma non credo che i bambini di oggi lo conoscano e un po' mi dispiace mi dispiace però ragazzi Giovanni Mucciaccia era della nostra epoca tutti noi ci ricorderemmo dei suoi attacchi d'arte non dimentichiamo Neil che io da bambino pensavo si chiamasse Mill perché stava per mille ed era tipo mille idee creative ero più creativo io da bambino che quelli di Art Attack e nulla nulla beh che dire beh che dire dobbiamo scegliere fra doppiaggio italiano inglese dovevamo parlare della musica però è vero si parliamo un secondo della musica perché ce lo siamo scordati e insomma no la musica in sé del film è ok è ok non è malaccio ok possiamo parlare del doppiaggio ora dovessi decidere un doppiaggio dei due forse prenderei quell'italiano perché quell'italiano oltre ad avere doppiatori molto bravi molto bravi che sono stati dei maestri nel riuscire a trasmettere anche le emozioni insomma è stato un doppiaggio veramente fatto bene credo meglio di quello inglese per quanto riguarda i dialoghi penso che il doppiaggio italiano sia più che perfetto mentre invece per quanto riguarda le canzoni doppiaggio inglese per quanto riguarda le canzoni doppiaggio inglese all the way perché le canzoni inglese sono molto meglio e ho letto da wikipedia che la colonna sonora è stata composta dai Jonas Brothers e che l'album si chiama Kids of the Future e tra l'altro io quando ho letto Jonas Brothers mi è salito un dubbio mi è salito un enorme dubbio perché il nome non mi è nuovo e a questo punto io mi appello a voi chiedendovi ma per caso un tempo su Italia 1 ho dovuto mettere via i blocco appunti perché non mi serve più ma per caso un tempo su Italia 1 c'era una serie televisiva con i Jonas Brothers protagonisti perché cioè ragazzi io mi chiedo io dico tipo le serie tv quelle per ragazzi stile i Carli Anna Montana Zack e Cody al Grand Hotel quelle cose lì incredibili Ned scuola di sopravvivenza tutte le ro... Malcolm no ma Malcolm è già più di là io dico proprio le serie con i personaggi famosi tipo Zack e Cody Anna Montana un pochino ai Carli quelle cose lì per caso tipo DeRake e Josh ragazzi ma per caso c'era anche una serie che andava tipo su Italia 1 con i Jonas Brothers perché vi giuro che non mi è nuovo vi giuro che non mi è nuovo insomma non non credo che la recensione sia finita a 50 minuti è finita e ragazzi è il momento la volta scorsa non abbiamo potuto ma questa sera si è il momento di prendere un frollino all'uovo allora e questo è il suo rumore adesso è meglio ben mangio biscotti per voi è molto rilassante vero? bene buon per voi grazie a tutti Grazie.